Apertura di Pinacol 24 Questo è il lavoro che sto facendo io sono esattamente 31 minuti 39 secondi Adesso faccio vedere praticamente scorrendo a velocità abbastanza elevata tutto il lavoro Apertura di Pinacol 24 Ora inizio l'esportazione Qui già comincia ad essere abbastanza lento Esporto in AV1 Preimpostazione Inizio Avvia esportazione alle ore 8 e 18 Adesso così uno si rende conto della lentezza dell'esportazione Per arrivare al 20-25% di esportazione si impiegherà circa un'ora e mezza e poi si bloccherà Faccio vedere qualche secondo 9 e 37 9 e 37 esportati solo 1 minuto e 56 secondi 9 e 37 esportati 1 minuto e 58 secondi Questa è la lentezza nell'esportazione Poi vedremo che verso il 25% circa si bloccherà tutto Sono le 10 L'esportazione è arrivata al 15% e ha esportato 5 minuti su 31 Questa è la lentezza dell'esportazione Questa è la lentezza di Pinacol 24 Ultimate Ore 11 Siamo al 34% 10 minuti e 53 Ancora funziona Sono le 10.42 Siamo al 30% di esportazione 9 minuti e 33 secondi Fra 30 secondi circa andrà tutto in tilt Il computer adesso è completamente bloccato Non riesco più a lavorare Né spingendo contro l'alcance Né contro l'ex Praticamente devo spegnerlo dalla tensione Provo contro l'alcance Non succede più niente Mi mando in blocco tutto il computer Non riesco più niente Il computer